Giovedì 24 aprile Papa Francesco ha ricevuto in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano il Primo Ministro della Repubblica di Albania, il signor Edi Rama. Si sono rilevati buoni rapporti esistenti tra Santa Sede e Repubblica d'Albania. Sono stati affrontati temi di comune interesse attinenti alla relazione tra la comunità ecclesiale e quella civile, tra i quali il dialogo interreligioso e il contributo della Chiesa per il bene comune della società. Ci si è soffermati anche sulle principali questioni regionali e sul cammino dell'Albania verso la piena integrazione nell'Unione Europea. Grazie a tutti.